Tutto in regola? Tutto secondo i piani, signore. Come se la cava il nuovo arrivato? Signore? Giusto, mantenere la professionalità. Prova, prova, uno, due, uno, due. Prova, prova, uno, due, uno, due. Prova, 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 uno, due. Sì, adesso, 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 adesso. Agente Mirtillo! Ancora otto vite! In segno di riconoscenza le conferisco questa medaglia da vincitore per il suo grandissimo onore. Questa medaglia... Oh mamma... Questa medaglia la classificherà come cercatore del Rosbiff perduto! Le permette di iscriversi al canale e guardare altri nostri video o le live! O andare a seguirci su Instagram! frb-dubbing O anche col link in descrizione. Dategli un'occhiata. Oh... Oh... Sì